Benvenuto in Passpartout. In questo video, vedremo la gestione dei beni usati con calcolo del margine secondo il metodo forfettario. La gestione contabile sarà disponibile dall'anno solare 2016. Per attivare la gestione, occorre modificare il parametro dei beni usati dalla funzione di servizio. In questa gestione, il margine lordo è calcolato applicando alle vendite, determinate percentuali di forfettizzazione, definite dalla normativa. Si devono creare tanti conti di ricavo, per quante sono le percentuali da gestire, indicando tale percentuale in questo campo. La normativa prevede tre diverse percentuali, 25%, 50% e 60%. Quando registri una fattura ricevuta relativa ad un bene usato, inseriti i dati di testata della registrazione, il fornitore e la contropartita economica, si sceglierà il codice IVA relativo all'operazione. Con il metodo forfettario non è necessario inserire i beni usati acquistati. Il costo di acquisto è ininfluente nel calcolo del margine. Si deve utilizzare il conto di ricavo sul quale è stata impostata la percentuale di forfettizzazione. Perfettario non è necessario inserire i beni usati. Il margine lordo, sarà calcolato applicando la percentuale, all'importo della vendita. Da questa funzione, dopo aver lanciato l'elaborazione del periodo di riferimento, viene visualizzato il saldo del periodo. L'importo dell'IVA dovuta viene riportato accanto a questa voce. Nella stampa della liquidazione viene riportato il dettaglio del calcolo, suddiviso per aliquota e per percentuali di forfettizzazione.